Nathan è l'erede di Kim, il Napoli ha scelto lunedì, firmerà il contratto che lo legherà alla squadra di Aurelio De Laurentiis e finisce, secondo me, la prima parte della telenovela sull'erede del coreano. Nathan scuola Red Bull, quindi già un profilo molto interessante, non accostato solamente quest'anno all'Italia, anche Verona e soprattutto la Roma avevano pensato al giocatore negli anni precedenti, fatto sta che il Napoli ha messo gli occhi su questo giocatore, ha deciso di investire una cifra magari più bassa di quella che ci si aspettava, di portare in Italia un giocatore forse meno pronto dal punto di vista dell'esperienza, ma sicuramente se si va in casa Red Bull, in questo caso Red Bull Bragantino, che è vero gioca in Brasile, è vero magari potrebbe essere sconosciuta a molti, ma il Napoli, che ha soprattutto una rete di scouting solida, che l'ha portata l'anno scorso a vincere il campionato, se questa decisione è stata presa un motivo c'è. Nathan, giocatore che non conosco benissimo, mi sono informato, ho visto qualche video prima di poter cercare di descrivere l'operazione, è un giocatore roccioso di 1,90m, 21 anni, giocatore che per certi versi ama avere il pallone, quindi cerca molto l'aggressività, è molto aggressivo, ricorda un pochino per certi versi Lucio, questo è un paragone che è stato fatto con il giovane brasiliano, ed è un giocatore che arriva in Italia con un peso specifico molto molto elevato, infatti si parla di lui come l'erede di Kim, come il giocatore che dovrà prendere il posto del coreano, che sappiamo l'anno scorso quanto sia stato importante. L'anno scorso abbiamo sicuramente decantato il dribbling di Kbara, la potenza di Osimen, la geometria di Lobotka, e la solidità, l'affiatamento e l'attaccamento alla maglia di Giovanni Di Lorenzo, ma il vero, secondo me, leader tecnico per quanto riguarda anche la personalità l'anno scorso è stato Kim, e anche Kim a molti era stato sconosciuto, anche Kim per molti non era adatto, comunque non era pronto a sostituire un giocatore come Kalidu Kulibali, e invece il Napoli ci ha sorpreso un'altra volta, perché non è andato a prendere in Enormand i Kylian a 40 milioni di euro, ma ha investito 10 milioni di euro per un giocatore che viene da un settore, diciamo da una struttura societaria molto importante come quello della Red Bull, non è il Salisburgo, non è l'Ipsia, ma è il Bragantino, ma è comunque scuderia Red Bull, e quindi se, come sappiamo, è vero, ha perso giunto il Napoli, ma sicuramente la parte struttura fondamentale dello scouting, che sappiamo quanto abbia fatto bene per il Napoli, è ancora attiva, è ancora quella, e ha battuto, secondo me, un ottimo colpo, per oggi e per il futuro, e se dovesse andare come è andata per il coreano l'anno scorso, per Kim, che quest'anno per 52 milioni di euro è andato in Germania al Bayern Monaco, ragazzi, al Bayern di Monaco, secondo me è un acquisto che innanzitutto dovrà trovare il rodaggio con il campionato italiano, però potrebbe essere veramente un grande colpo, e secondo me gli verrà affiancato un altro centrale, proprio per evitare la troppa pressione che potrebbe esserci, la troppa, diciamo, visione, no, che ci potrebbe essere su questo giocatore visto proprio come l'erede di Kim, perché arriva l'erede di Kim, non arriva Nathan dal Red Bull Bragantino per 10 milioni, per molti è l'erede di Kim, e secondo me ad un ragazzo così giovane che si appresta al primo approccio con un campionato europeo, può essere troppo, e questo mi fa pensare che vista la cifra modica comunque di circa 10 milioni spesa per acquistarlo, forse un altro colpo lì dietro verrà fatto, ma ragazzi, voi tifosi del Napoli e chi mi sta ascoltando, cosa ne pensate di Nathan? Cosa pensate del colpo fatto dal Napoli? E secondo voi acquisteranno un altro centrale di difesa? Faranno un altro colpo a sorpresa? Cosa ci dobbiamo aspettare da De Laurentiis? Che sappiamo essere magari antipatico a molti, ma non stupido, e avere tutto sotto controllo come al solito, e battere colpi come ad esempio Fu Kim e Kvaraskela l'anno scorso, Nathan quest'anno, vi aspettate un altro colpo? Si smuove il mercato del Napoli, si smuove il mercato delle big, sta accelerando e ci si sta avvicinando sempre di più alla nuovissima Serie A 2023-2024, lasciate like, iscrizione al canale, attivate la campanellina, condividete il video, dal vostro Andrea è tutto, un grande abbraccio!